La locanda Come tutte le locande in legno che sorgono nelle Hot Alp, ai piedi dei ghiacciai, in quelle gole rocciose e nude che tagliano le bianche cime dei monti, la locanda di Schwarenbach serve da rifugio ai turisti che percorrono il passo della Gemmi. La locanda rimane aperta per sei mesi, abitata dalla famiglia di Jean Hauser, poi non appena le nevi si ammucchiano riempiendo la valle e rendendo impraticabile la discesa sull'eche, le donne, il padre e i tre figli, se ne vanno e lasciano a guardare la casa un'anziana guida, Gaspar Harry, con un'altra guida più giovane, Ulrich Kunzi, nonché un grosso cane San Bernardo, chiamato Sam. I due uomini e il cane rimangono in quella prigione di neve sino a primavera. Non possono vedere altro che l'immensa pendice bianca del Balmhorn, circondati da picchi candidi e splendenti. Sono chiusi, bloccati, sepolti sotto la neve che sale attorno a loro, circonda, stringe, schiaccia la piccola costruzione, si ammonticchia sul tetto, raggiunge le finestre e occlude la porta. Era il giorno in cui la famiglia Hauser tornava a Ulrich, poiché s'avvicinava l'inverno e la discesa a valle poteva diventare rischiosa. Andarono avanti tre muli, carichi di fagotti e bagagli, condotti dai tre figli. Poi la madre, Jeanne Hauser, e sua figlia Louise salirono su un quarto mulo e si misero in cammino a loro volta. Le seguiva il padre, accompagnato da due custodi che dovevano scortare la famiglia fino all'inizio della discesa. Costeggiarono il leghetto ormai gelato, in fondo allo spiazzo circondato da rocce che si apre davanti all'albergo. Poi seguirono la vallata candida come un lenzuolo e dominata da ogni parte da cime nevose. Un torrente di sole, piombando su quel deserto bianco, scintillante e ghiacciato, lo accendeva di una fiamma cecante ma fredda. Nessun segno di vita appariva in quell'oceano di montagne. Niente si muoveva in quella smisurata solitudine. Nessun rumore ne turbava l'assoluto silenzio. A poco a poco la guida più giovane, Ulrich Kunzi, un gigante svizzero dalle lunghissime gambe, si lasciò indietro Papa Hauser e il vecchio Gaspar Harry per raggiungere il mulo che portava alle due donne. La più giovane lo guardava avanzare e pareva lo chiamasse con uno sguardo triste. Era una piccola contadina bionda, dalle guance di latte e dai capelli chiarissimi, quasi scoloriti dalla vita in mezzo ai ghiacci. Quando ebbe raggiunto l'animale che la portava in groppa, posò la mano sulla groppa e rallentò il passo. Mamma Hauser prese a parlargli, enumerando con tanti particolari le raccomandazioni per il periodo invernale. Era la prima volta che Ulrich rimaneva lassù, mentre il vecchio Harry aveva già trascorso quattordici inverni sotto la neve, nella locanda di Schwarembach. Ulrich Kunzi ascoltava, ma sembrava che non capisse, guardava incessantemente la ragazza. Di quando in quando rispondeva, sì, signor Hauser, ma la sua mente era altrove, e il viso calmo rimaneva impassibile. Raggiunsero il lago di Daube, la cui superficie gelata si dispiegava, piatta piatta e in fondo alla vallata. A destra il Daubenhorn mostrava già le sue rocce scure, per gente sia picco accanto all'enorme morena del ghiacciaio di Lemmern che dominava il Wildstrubel. Appena furono nei pressi del colle della Gemmi, dove cominciava la discesa verso l'Eche, scoprirono all'improvviso l'immenso orizzonte delle Alpi del Vallese, da cui li separava la profonda e larga valle del Rodano. In lontananza erano una moltitudine di cime bianche, ineguali, ora tozze ora a punta, e splendenti al sole. Il Mischabel dai due corni, il possente massiccio del Weishorn, l'imponente Brunneghorn, l'alta e spaventosa piramide del Cervino, questo uccisore di uomini, e la dente blanche, mostruosa lettatrice. Poi sotto di essi, in un avvallamento smisurato, in fondo a un abisso cupo, scorsero l'Eche, le cui case sembravano granelli di sabbia gettati in quell'enorme crepaccio che terminava e si cuideva con la Gemmi, con una sola lontana apertura sul Rodano. Il muro si fermò sul margine del sentiero che si snoda come un serpente, girando e rigirando in continuazione, e riapparendo fantastico e meraviglioso lungo l'erta, sino a quel piccolo villaggio quasi invisibile ai suoi piedi. Le donne scesero nella neve. I due anziani li avevano raggiunte. Allora, disse papà Hauser, addio e coraggio, amici miei, e rivederci all'anno prossimo. Harry ripetè, all'anno prossimo. Si baciarono, poi a sua volta la signora Hauser protese il viso, e la figlia fece altrettanto. Quando toccò a Ulrich, egli mormorò all'orecchio di Louise, non vi scordate di chi sta lassù. Lei rispose con un no tanto fioco che il ragazzo l'indovinò senza udirlo. Allora, addio, ripetè John Hauser, e buona salute. Passò avanti alle sue donne e cominciò a discendere. Sparirono presto tutti e tre alla prima svolta. E i due uomini se ne tornarono verso la locanda di Schwarenbach. Camminavano ad agio, affiancati ma senza parlare. Era fatta, sarebbero rimasti soli, faccia a faccia, per quattro o cinque mesi. Poi Gaspar Harry si mise a raccontare come aveva trascorso l'inverno precedente. Era rimasto con Michael Canole, che ora era troppo vecchio per ricominciare, poiché potrebbe anche capitare un guaio durante quella lunga solitudine. D'altronde non si erano annoiati. Tutto stava nell'abituarsi a quella vita sin dal primo giorno. Poi si finiva con l'inventarsi qualche distrazione, qualche gioco o svariati passatempi. Ulrich Kun si ascoltava, con gli occhi bassi e continuando a seguire, col pensiero, coloro che stavano scendendo al villaggio attraverso i tornanti della Gemmi. Scorsero ben presto la locanda, appena visibile nella sua piccolezza, un puntino nero ai piedi della mostruosa marea di neve. Appena aprirono la porta, Sam, un grosso cane lanoso, cominciò a saltar di gioia attorno a loro. «Così, ragazzo mio», disse il vecchio Gaspar, «adesso donne non ce ne sono più. Bisogna preparare il pranzo. Comincia a pelare le patate». E tutti e due, sedutici su scabelli di legno, iniziarono a preparare una minestra. La mattina del giorno seguente sembrò lunga a Ulrich Kunzi. Il vecchio Harì fumava e sputacchiava nel focolare, mentre il giovanotto guardava dalla finestra la montagna scintillante di fronte alla casa. Uscì nel pomeriggio e, rifacendo il percorso della vigilia, cercava a terra le tracce lasciate dagli zoccoli del mulo che aveva portato le due donne. Poi, arrivato al colle della Gemmi, si stese a pancia sotto sul bordo del precipizio e guardò verso Lehe. Il villaggio, nel suo pozzo di rocce, non era ancora sepolto dalla neve, benché essa arrivasse fin lì vicino. Le foreste diabete lo proteggevano ancora. Di lassù le case basse sembravano selci in un prato. In quel momento la piccola Hauser era lì, in una di quelle grigie abitazioni, in quale Ulrich così da lontano non riusciva a distinguerle l'una dall'altra, come gli sarebbe piaciuto scendere da lei mentre era ancora possibile. Ma il sole era sparito dietro la grande cima del Vildstrubel e allora il ragazzo rientrò. Papà Harry fumava ancora. Quando vide rincasare il suo compagno, gli propose di fare una partita a carte e si sedettero uno di fronte all'altro, ai due lati del tavolo. Giocarono per un po' al semplice gioco della briscola, poi dopo cena andarono a letto. I giorni successivi furono ai quali al primo, chiari e freddi, senza altre nevicate. Il vecchio Gaspar passava i pomeriggi a spiare le aquile e i rari uccelli che si avventuravano su quelle cime ghiacciate, mentre Ulrich tornava regolarmente al colle della Gemmi per contemplare il villaggio. Poi giocavano a carte, ai dadi, al domino, guadagnavano e perdevano qualche piccolo oggetto per rendere più interessanti le partite. Un mattino Harry, che si era alzato per primo, chiamò il compagno. Una nuvola in movimento, profonda e leggera, che sembrava fatta di schiuma bianca, si abbatteva sopra di loro, intorno a loro. Li seppelliva poco a poco senza rumore, sotto un fitto e pesante materasso di fiocchi. Questa nevicata durò quattro giorni e quattro notti. Bisogna liberare porta e finestre, scavare un cunicolo e costruire alcuni gradini per poter salire su quella polvere di ghiaccio che dodici ore di gelo avevano resa più dura del granito delle morene. Allora vissero come prigionieri, senza zardarsi più ad uscire dalla loro dimora. S'erano divisi tra di loro tutte le mansioni e le svolgevano regolarmente. Ulrich Kunzi si occupava delle pulizie, lavava le stoviglie e la biancheria. Si occupava insomma di ogni lavoro di pulizia. Spaccava anche la legna, mentre Gaspar Harì cucinava e badava al fuoco. Il lavoro monotono e regolare veniva interrotto da lunghe partite a carte o a dadi. Non bisticciavano mai. Erano entrambi calmi e pacifici. Poiché in vista di quell'inverno in alta montagna avevano fatto provvista di rassegnazione, non si impazientivano mai. Non erano mai di cattivo umore o pronti a rivolgersi insulti. Qualche volta il vecchio Gaspar prendeva il fucile e andava alla ricerca di Kamoschi, riuscendo talvolta a ucciderne uno. Allora nella locanda di Schwarenbach si faceva festa e si mangiava a sazietà buona carne fresca. Una mattina se ne andò così. Il termometro esterno segnava 18 gradi sotto zero, poiché il sole non si era ancora alzato. Il cacciatore sperava di sorprendere qualche animale nelle vicinanze del Wilde Strubel. Rimasto solo, Ulrich indugiò a letto fino alle dieci. Era dormidione per natura, ma non si sarebbe abbandonato alla sua inclinazione se fosse stata presente la vecchia guida, sempre attiva e mattiniera. Fece lentamente colazione con Sam, che anche lui passava giorno e notte dormendo accanto al fuoco. Poi si sentì triste, spaventato dalla solitudine e preso dalla voglia della ormai quotidiana partita a carte, com'è lo si è dal desiderio di un'abitudine inveterata. Uscì per andare incontro al compagno, che avrebbe dovuto far ritorno verso le sedici. La neve aveva livellato tutta la profonda vallata, colmando i crepacci, cancellando i due laghi, ricoprendo le rocce. Formava ormai tra i picchi smisurati un'immensa conca bianca, uniforme, accecante e ghiacciata. Da tre settimane Ulrich non era tornato sull'orlo dell'abisso da dove guardava verso il villaggio. Vole andarci prima di scalare le pendici che conducevano al Wildstrubel. Ora Leuch era completamente sotto la neve e le case non si distinguevano più, sepolte sotto quel pallido manto. Poi, girando a destra, raggiunse il ghiacciaio di Lembern. Camminava con il suo lungo passo da Montanaro, colpendo col bastone ferrato la neve dura come pietra. Cercava con lo sguardo acuto un puntino nero che si muovesse su quella smisurata coltre bianca. Quando fu sull'orlo degli acciaio si fermò, chiedendosi se il vecchio avesse proprio preso quella direzione. Poi si mise a seguire le morene, con passo più veloce e nervoso. Il giorno declinava. La neve si tingeva di rosa. Un vento secco e gelido correva con brusche raffiche sulla sua superficie cristallina. Ulrich mandò un grido di richiamo acuto, vibrante, lunghissimo. La sua voce volò alta sul silenzio mortale in cui dormivano le montagne. Corse in lontananza sulle onde immobili e profonde di ghiaccio come un grido d'uccello sulle onde marine. Poi si spense e nulla le rispose. Riprese a camminare. Il sole era sprofondato laggiù dove le cime erano ancora arrossate dal riflesso del cielo, ma le profondità della valle già s'erano ingrigite. E all'improvviso il giovane ebbe paura. Gli parve che il silenzio, freddo, solitudine e la morte invernale delle montagne entrassero dentro di lui, sul punto di fermargli e congelargli il sangue, irrigidirgli le membra, immobilizzarlo e trasformarlo in una statua di ghiaccio. E si mise a fuggire di corsa verso la casa. Pensava che il vecchio fosse rientrato, mentre egli era fuori. Sicuramente doveva aver preso una diversa direzione e adesso sedeva davanti al fuoco, con ai piedi un camoscio ucciso. Vide ben presto la casa. Non ne usciva nessun filo di fumo. Corse più veloce, aprì la porta. Sam si slanciò a fargli le feste. Ma Gaspar Harì non era ritornato. Sgomento Kunze andava su e giù come se si fosse aspettato di scoprire il compagno nascosto in un angolo. Poi gli accese il fuoco e preparò la minestra, sperando sempre di veder tornare il vecchio. Ogni tanto usciva di casa per guardare se si vedeva. Era accaduta la notte, la scialbanotte delle montagne, pallida e livida, rischiarata al limite dell'orizzonte da una falce gialla e sottile, prossima a sparire dietro le cime. Poi il giovane rincasava, si sedeva, si scaldava mani e piedi, immaginando gli incidenti possibili. Gaspar avrebbe potuto rompersi una gamba, cadere in un crepazzo, fare un passo falso slogandosi una caviglia. E poteva essere rimasto steso nella neve, colto dal freddo, irrigidito, con l'animo angosciato, perduto, forse gridando aiuto, chiamandolo con quanto fiato aveva in corpo nel silenzio della notte. Ma dove? In quei paraggi la montagna era così vasta, così aspera, così pericolosa, soprattutto in quella stagione, che sarebbero corse dieci o venti guide che si muovessero per otto giorni in ogni direzione per trovare un uomo smarrito in quell'immensità. Ulrich Kunzi risolvette di partire con Sam, se Arinun fosse ritornato tra la mezzanotte e il tocco e fece i preparativi necessari. Mise viveri per due giorni dentro un sacco, prese i ramponi di ghiaccio, arrotolò una corda alla vita, una corda lunga e sottile ma resistente, verificò lo stato del bastone ferrato e della piccozza che serve a intagliare i gradini del ghiaccio. Poi si mise in attesa. Il fuoco ardeva nel caminetto, il grosso cane russava al chiarore della fiamma, l'orologio batteva come un cuore i suoi colpi uniformi nella cassa di legno sonora. Aspettò ancora, con l'orecchio teso ai rumori lontani, rabbrividendo quando un leggero vento sfiorava il tetto e le mura. Mezzanotte suonò. Il giovane trasalì, poi, fremente impaurito, mise l'acqua sul fuoco per preparare un caffè caldissimo prima di porsi in cammino. Quando l'orologio batte il tocco, Ulrich si alzò, svegliò Sam, aprì la porta e se ne andò in direzione del Wildstrubel. Salì per cinque ore, scalando le rocce mediante i ramponi, avanzando sempre e qualche volta tirando su il cane rimasto in basso di fronte a una scarpata troppo lipida. Erano quasi le sei quando raggiunse una delle cime dove Gaspar veniva spesso alla ricerca dei camosci e aspettò che si facesse giorno. Il cielo impallidiva sopra di lui ed improvviso una luce bizzarra, nata chissà dove, illuminò improvvisamente l'oceano delle cime pallide che per cento leghe si elevavano attorno a lui. E sarebbe detto che quel vago chiarore avesse origine dalla stessa neve per spandersi poi nello spazio. A poco a poco le cime più alte più lontane si fecero d'un lieve rosa carnicino e un sole scarlatto comparve dietro i massicci giganti delle Alpi bernesi. Ulrich Kunzi si mise in cammino, avanzava come un cacciatore, curvo, cercando una traccia e dicendo al cane, cerca Sam, cercalo. Ora scendeva per la montagna frugando con lo sguardo gli abissi e gettando a intervalli un grido prolungato che moriva presto in quella muta immensità. Allora metteva l'orecchio a terra per ascoltare. Gli sembrava di udire una voce. Si metteva a correre, tornava a chiamare e non sentiva più niente e si sedeva spossato, disperato. Verso mezzogiorno mangiò e dette da mangiare al Sam, stanco quanto lui. Poi ricominciò la ricerca. Camminava ancora quando scese la sera, dopo aver percorso 50 chilometri in montagna. Poiché si trovava troppo lontano da casa per potervi far ritorno ed era troppo stanco per trascinarsi più a lungo, scavò una buca nella neve e vi si rannicchiò con il cane sotto una coperta che aveva portato con sé. L'uomo e la bestia si strinsero l'uno all'altro, scaldandosi a vicenda, eppure sentendosi gelare sin nelle ossa. Ulrich non riuscì a dormire. La sua mente era ossessionata da visioni. Le membra scosse da brividi. Si rialzò quando stava per spuntare il giorno. Le gambe gli si erano irrigidite come sbarre di ferro. Si sentiva così debole che stava per gridare dall'angoscia. Il cuore gli batteva con tanta forza che un rumore qualsiasi poteva farlo cadere a terra per l'emozione. A un tratto pensò che anche egli sarebbe morto in quella solitudine a causa del gelo, ma lo spavento di una morte simile sversò la sua naturale energia e risvegliò il suo vigore. Adesso ridiscendeva verso la locanda, cadendo e rialzandosi, seguito a distanza da Sam, che procedeva zoppicando su tre gambe. Raggiunse Rochefarenbach soltanto alle quattro del pomeriggio. La casa era vuota. Il giovane accese il fuoco, mangiò e si addormentò, così abbrutito dalla stanchezza che non pensava più a niente. Dormì a lungo, molto a lungo, da un sonno invincibile, ma all'improvviso un grido, una voce, un nome, Ulrich, scossero il suo torpore e lo fecero balzare in piedi. Forse aveva sognato. Era stato uno di quegli strani richiami che attraversano i sonni delle anime inquiete. No, lo sentiva ancora quel grido vibrante, penetrato nel suo orecchio e nella sua carne sino alla punta delle dita nervose. Certamente qualcuno aveva chiamato, Ulrich. Qualcuno doveva essere lì, accanto alla casa. Non poteva aver dubbi. Allora aprì la porta e urlò con quanto fiato aveva in gola. Sei tu, Gaspar? Non ebbe risposta. Nessun suono, nessun mormorio, nessun gemito, nulla. Annottava. La neve era livida. Si era alzato il vento. Quel vento ghiacciato che spezza le pietre e non lascia nulla di vivo su quelle cime abbandonate. Passava in brusche raffiche che inalidivano e portavano la morte più di quelle del vento di fuoco che soffia nel deserto. Ulrich gridò di nuovo, Gaspar, Gaspar, Gaspar! Poi aspettò. Tutto rimase muto sulla montagna. Allora la paura lo scosse sino alle ossa. L'umbalzo rientrò nella locanda, chiuse la porta, tirò i catenacci. Poi cadde su una sedia, battendo i denti. Certo che sarebbe ancora stato chiamato dal suo compagno nel momento della sua morte. Di ciò era sicuro, come era sicuro di vivere e di mangiare un pezzetto di pane. Il vecchio Gaspar Harry aveva agonizzato, chissà dove, per due giorni e tre notti. In un crepaccio, in uno di quei profondi burroni immacolati, il cui candore è più sinistro delle tenebre dei sotterranei. Aveva agonizzato per due giorni e tre notti ed era morto poco prima, pensando al compagno. Appena libera, la sua anima era volata verso la locanda, dove Ulrich era addormentato e lo aveva chiamato col potere misterioso e terribile che consente ai morti di frequentare i vivi. Aveva gridato, quell'anima senza voce, nell'anima angosciata del dormiente. Aveva gridato il suo ultimo addio o la sua rampogna, o la sua maledizione all'uomo che non aveva cercato abbastanza. E Ulrich la sentiva lì, vicinissima, dietro il muro, dietro la porta che aveva sbarrato. L'anima saggirava lì intorno, come un uccello notturno che sfiora con l'ali piumate e una finestra illuminata. Il ragazzo smarrito stava per gridare, vinto dall'orrore. Avrebbe voluto scappare e non osava uscire. Non osava e non avrebbe osato mai più ormai, perché il fantasma sarebbe rimasto lì, notte e giorno, attorno all'albergo, finché il corpo della vecchia guida non fosse stato ritrovato e adagiato nella terra consacrata di un cimitero. Spuntò il giorno e Kunzi riprese un po' di coraggio con lo splendente ritorno del sole. Preparò la colazione per sé e la zuppa per il cane, poi rimase immobile su una seggiola, col cuore torturato al pensiero del vecchio che giaceva sulla neve. Ma non appena il buio avvolse la montagna, fu assalito da nuove paure. Camminava da destra a sinistra e viceversa in quel piccolo vano, a lunghi passi, ascoltando, ascoltando, in attesa che il grido spaventoso della notte precedente lacerasse ancora il tetro silenzio da fuori. E si sentiva solo e miserando come nessun uomo era mai stato. Solo in quello sconfinato deserto di neve, solo a duemila metri di altezza dalla terra abitata, dalle case degli uomini, dalla vita che pulsa, si muove e rumoreggia, solo nel cielo di ghiaccio. L'attanagliava un folle desiderio di fuga verso un luogo qualsiasi, il desiderio di scendere a leghe, gettandosi nell'abisso. Ma non aveva nemmeno il coraggio di aprire la porta, sicuro che l'altro, il morto, gli avrebbe sbarrato la strada per non restare solo lassù. Verso mezzanotte, esausto dal gran camminare, affranto dall'angoscia e dalla paura, s'assopì finalmente su una sedia, perché temeva anche il letto come si teme un luogo stregato. E all'improvviso il grido stridulo della notte precedente gli strazzò l'orecchio, con tanta acutezza che stese le braccia per respingere il fantasma e cadde sulla schiena insieme alla sedia. Destato da quel rumore, Sam si mise a urulare come fanno i cani spaventati. Girava per tutta la casa, cercando il luogo da cui fiutava il pericolo. Giunto alla porta, si mise a fiutare sul pavimento, soffiando e respirando con forza, il peroritto, la coda alzata e mugolando. Fuori di sé, Kunzi si era alzato in piedi, afferrò la sedia per una gamba e gridò «Non entrare, non entrare, non entrare o t'ammazzo!». Il cane, citato da quell'atteggiamento minaccioso, abbaiava con furore contro il nemico invisibile sfidato dalla voce del padrone. A poco a poco, Sam si calmò e tornò ad accucciarsi vicino al focolare, ma era ancora inquieto. Teneva la testa eretta e gli occhi gli luccicavano, mentre brontolava tra le zanne. Anche Ulrich era tornato padrone di sé, ma poiché sentiva che avrebbe potuto venire meno dal terrore, andò a cercare nella credenza una bottiglia d'acqua vite e ne beve, uno dopo l'altro, parecchi bicchieri. Le idee gli si confondevano, ma riacquistava coraggio. Un fuoco di febbre cominciava a scivolargli nelle vene. Non toccò cibo sino all'indomani, limitandosi a bere alcol, e per più giorni di seguito tirò avanti così, ubriaco come un bruto. Ogni volta che gli veniva in mente Gaspar Harry, ricominciava a bere finché non cadeva a terra, ubriaco fradicio. E restava lì, bocconi, ebbro e come morto, con braccia e gambe stroncate, russando la fronte a terra. Ma appena aveva digerito quel liquore dissennante e bruciante, lo svegliava sempre lo stesso grido. Ulrich! Era come un proiettile che gli trapassava il cranio. Allora salzava, ancora barcollante, stendeva le mani avanti per non cadere, e chiamava Sam in soccorso. Il cane che pareva impazzire come il padrone si precipitava sulla porta, la grattava con le unghie, la intaccava con le lunghe zanne bianche, mentre il giovane, la testa piegata indietro e il collo eretto, beveva grandi sorsate, come fosse acqua fresca dopo una corsa, l'acquavite che avrebbe sopito di nuovo ogni suo pensiero, ogni ricordo, e il suo folle terrore. In tre settimane mandò giù tutta la provvista di alcol, ma questo continuo stato d'ebrietà si limitava ad assopire la sua paura, che divenne ancor più terribile quando gli fu impossibile placarla in quel modo. L'idea fissa, allora, accresciuta da quel mese di ubriachezza continua e dall'assoluta solitudine, si affondava in lui come uno scalpello che butta giù un muro. Adesso camminava nella casa come una belva in gabbia, incollando l'orecchio alla porta per ascoltare se l'altro era lì e sfidandolo attraverso il muro. Poi appena cominciava a sonnecchiare, vinto dalla stanchezza, sentiva la voce che lo faceva balzare in piedi. Finalmente una notte, come un vile che è spinto all'esterno, si precipitò sull'uscio e lo aprì per vedere colui che lo chiamava e obbligarlo a tacere. Ricevette in piena faccia una raffica d'aria fredda che lo gelò sino alle ossa. Richiusi il battente, tirò i chiavi stelli senza far caso che Sam era schizzato fuori. Poi fremendo gettò sul fuoco una brazzata di legna e vi si sedette davanti nel tentativo di riscaldarsi. Ma all'improvviso trasalì perché qualcuno grattava il muro piangendo. Fuori di sé gridò «Va via!» gli rispose un gemito lungo e doloroso. Allora il terrore sconvolse quel piccolo margine di ragione che gli era rimasto. Ripeteva «Va via!» girando su sé stesso per trovare un posto dove nascondersi. L'altro piangeva sempre, girava attorno alla casa, strusciando contro i muri. Ulrich si lanciò contro la credenza di querza piena di stoviglie e provviste e sollevandola con forza sovrumana la trascinò sino all'uscio per proteggersi con una barricata. Poi ammucchiò uno sull'altro i mobili che rimanevano, i materassi, le coperte, le sedie, e tappò la finestra come per difendersi dall'assedio di un nemico. Ma l'altro da fuori mandava ora gemiti lugubri, anche più strazianti, a cui il giovane si mise a rispondere con gemiti uguali. Giorni e notti passarono senza che né l'uno né l'altro cessasse di urlare. Uno girava senza posa attorno alla casa e tentava ad entrare, colpendo il muro con le unghie con tanta forza da tentare di demolirlo. L'altro di dentro ne seguiva tutti i movimenti, curvo, l'orecchio aderente alla pietra, e rispondeva a tutte quelle invocazioni con grida spaventevoli. Una sera Ulrich non udì più nulla e si sedette così spossato che si addormentò subito. Si svegliò senza ricordi, senza pensieri, come se tutta la sua testa si fosse vuotata durante quel sonno profondo. Aveva fame e mangiò. L'inverno era finito, il passo della gemme tornava ad essere praticabile e la famiglia Hauser si mise in cammino per tornare alla sua locanda. Quando ebbero raggiunto il culmine della salita, le donne si arrampicarono sopra il mulo e cominciarono a parlare dei due uomini che poco dopo avrebbero rivisto. S'erano stupite che una di loro non fosse scesa a valle qualche giorno prima, appena la strada era diventata agibile, per raccontare come era andata durante quel lungo inverno. Finalmente giunsero in vista della locanda, ancora coperta e tapezzata di neve. Porta e finestra erano chiuse, ma un filo di fumo usciva dal comignolo, cosa che rassicurò Papa Hauser. Ma quando si fu avvicinato scorse sulla soglia uno scheletro di animale, dilaniato dalle aquile, un grande scheletro colicato su un fianco. Tutti lo esaminarono. Deve essere Sam, disse la madre, e chiamò. Ehi, Gaspar! Un grido, rispose dall'interno. Un grido acuto simile a quelli che emettono le bestie. Papa Hauser ripetè. Ehi, Gaspar! Sentirono un altro grido, simile al primo. Allora i tre uomini, il padre e i due figli, cercarono di aprire la porta. Essa resistette. Presero nella stalla deserta una lunga trave, e servendosene come di una riete, la scagliarono a tutta forza contro l'uscio. Il legame scricchiolò, cedette, e tavole volarono in pezzi. Poi un gran frastuono scosse la casa, e nell'interno, dietro la credenza crollata, scorsero un uomo in piedi, con i lunghi capelli ricadenti sulle spalle, una barba sino al petto, gli occhi lucidi, e qualche brandello di stoffa attorno al corpo. Non lo riconoscevano, ma lui sgridò. È Ulrich, mamma! E la madre si rese conto che era proprio Ulrich, anche se i capelli erano tutti bianchi. Lasciò che si avvicinassero, lasciò che lo toccassero, ma non rispose alle domande che gli facevano. Dovettero portarlo a Leche, dove il medico constatò che era demente. E nessuno riuscì mai a sapere cosa era accaduto al suo compagno. La piccola Hauser, quell'estate, rischiò di morire per una malattia psichica che fu attribuita al freddo della montagna.